Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Mentre in Occidente avanza l'apostasia silenziosa, divenuto ormai persecutoria con quanti si ostinino a seguire la dottrina cattolica, complice il silenzio delle gerarchie a tutti i livelli, sempre nell'indifferenza generale prosegue in molte regioni del mondo il martirio dei cristiani chiamati a testimoniare col sangue la propria fede. Mentre il primo ministro indiano Narendra Modi veniva ricevuto dal presidente francese Macron, che gli ha anche conferito la gran croce della legione d'onore, nel suo paese i cristiani continuano ad essere vittime dei fondamentalisti hindù con la complicità peraltro delle forze dell'ordine. Solo nella prima metà dell'anno, in 23 stati sui 28 aderenti alla federazione, si sono verificati ben 400 episodi di violenza contro i 274 registrati l'anno scorso nello stesso periodo. Su di essi non sono nemmeno state avviate regolari indagini. Il triste record spetta lo stato nell'Uttar Pradesh, con 155 casi, seguito dal Chattisgar con 84. Secondo quanto dichiarato dall'UCF Forum Cristiano Unito, il picco sarebbe stato toccato nel giugno scorso con 88 episodi, quasi tre al giorno. Ciò nonostante, sono proprio i cristiani a subire il maggior numero di denunce per conversione illegale ai sensi della legge Capestro sulla libertà di religione. Le accuse sono tutte rigorosamente false, in merito è stata presentata una petizione alla Corte Suprema Indiana, tesa alla creazione di una squadra investigativa speciale per registrare e perseguire questo tipo specifico di reati. Il governo si è incredibilmente opposto. L'odio verso i cristiani però inizia già sui banchi di scuola. Priyanka Nungo, presidente dell'NCPC, Commissione Nazionale Indiana per la Protezione dell'Infanzia, da alcuni mesi ha avviato una propria battaglia personale contro le istituzioni educative cattoliche del Madhya Pradesh. L'ultimo in ordine di tempo, nel giugno scorso, è stato l'Asha Kieran Children's Care Institute, un ostello gestito dalle sue resino malabaresi della Congregazione della Madre del Carmelo, nella città di Catani, diocese di Abbalbur. Il copione è sempre lo stesso. Nungo ordina un'ispezione a sorpresa dalla quale emergerebbero prove di frode e conversioni forzate di bambini, prove regolarmente destinate a cadere in tribunale. Persino il vescovo di Abbalpur, Monsignor Gerald Almeida, è stato minacciato di arresto. Da notarsi che Canungo è membro del BJP, lo stesso partito nazionalista hindù, di cui fa parte il primo ministro Narendra Modi, ricevuto con tutti gli onori da Macron. Anche in Pakistan, Abbalpur, lo scorso 30 maggio, un 24enne cristiano, Numan Ashkar, è stato condannato in primo grado a morte per blasfemia. Secondo l'accusa sarebbero stati trovati, sul suo cellulare, alcuni disegni offensivi nei confronti di Maometto, inviati in realtà tramite WhatsApp da un musulmano, Bilal Ahmad, neppure processato per questo. Secondo la difesa, ricorso in appello, il magistrato avrebbe ignorato tutte le procedure e respinto tutte le prove a favore del suo assistito. Prosegue la persecuzione della Chiesa Cattolica anche nel Nicaragua comunista, con continuazioni di controllo da parte della polizia su parrocchie, comunità religiose e case dei singoli sacerdoti che dal canto loro denunciano vessazioni, pestaggi e confischi di proprietà. Alcune omelie vengono registrate dalle forze dell'ordine per criminalizzare il clero. Annullate le processioni, proibite le visite ai malati e la consegna di cibo ai poveri. Secondo l'avvocato Marta Patrizia Molina, ricercatrice in esilio, quest'anno sono già stati espulsi quattro sacerdoti dal loro paese. Sei sono fuggiti e a due è stato negato il rientro. Non solo, lo scorso 9 luglio, agenti della polizia nazionale hanno arrestato Don Fernando Israelsa Mora Silva, cancelliere della diocesi di Siuna, nei Caraibi del Nicaragua. Aveva da poco partecipata a una santa messa celebrata dal cardinale Leopoldo Brenes nella parrocchia di San Luis Gonzaga, Managua. Le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia, trapelata comunque da fonti ecclesiali. La Fondazione per la Libertà del Nicaragua, preseduta dal leader dell'opposizione Felix Maradiaga, da poco scarcerato e privato della nazionalità, ha chiesto il rilascio del sacerdote. Don Zamora Silva è l'ottavo prete finito in manette dopo un'instaurazione del regime comunista di Daniele Ortica. Dell'elenco fa parte, come noto, anche il vescovo nicaraguense Monsignor Orlando Alvarez, condannato ad oltre 26 anni di galera per tradimento. Anche in Nigeria il sequestro dei sacerdoti è purtroppo divenuto pratica diffusa. Lo scorso 10 luglio è stato rapito nei pressi della sua parrocchia, Amgbalit Veisu, e poi rilasciato, padre Iosef Azubuike, fermato assieme ad altri tre uomini in viaggio con lui, pure liberati, come confermato da padre Donatus Chukfu, ricario generale della diocesi di Abakaliki, nello stato di Ebonhi. I sequestratori avevano chiesto un riscatto di 50 milioni di naira, pari a circa 66 mila dollari. Tuttavia l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato di pagare la somma. Ora è caccia i malviventi in fuga, padre Azubuike e gli altri tre individui con lui sono incolumi e in buona salute. Secondo le autorità ecclesiastiche, tuttavia, a quest'ennesimo sequestro non sarebbe un episodio isolato. Il rapimento di sacerdoti, soprattutto nel sud-est della Nigeria, è divenuto un fenomeno comune, in grado di garantire introiti multimilionari con i riscatti. Secondo un rapporto intitolato The Economics of the Kidnapping Industry in Nigeria, elaborato dalla società di ricerca SBM Intelligence, tra il luglio del 2021 e il giugno del 2022 sarebbero state rapite almeno 3.420 persone in tutto il paese, mentre altre 564 sarebbero state uccise in atti di violenza associati ai sequestri. In quello stesso periodo sarebbero stati richiesti riscatti per 6,531 miliardi di naira, pari a circa 9,9 milioni di dollari, e di questi sono stati pagati in tutto 653,7 milioni di naira, pari a 1,2 milioni di dollari. Tra gli obiettivi preferiti dai rapitori è proprio il clero cattolico, benché i vescovi nigeriani abbiano già chiarito di non voler pagare alcun riscatto. D'accanto su il governo sembra essere del tutto incapace e impotente di far fronte a tale piaga. Né sul piano internazionale si odono voci, neppure all'interno della gerarchia della Chiesa, pronti a condannare le violenze patite dai fedeli e dal clero cattolici in ogni angolo del mondo, lasciati solo a se stessi nel silenzio e nell'indifferenza generale. Qui in Occidente, del resto, vengono profuse enormi energie nel picconare le fondamenta della dottrina cattolica dall'interno e dall'esterno. Non v'è tempo in alcuna voglia, evidentemente, di occuparsi dei fratelli che soffrono per Cristo. Grazie.